L'ultimo saluto ad un sacerdote che ha lasciato un segno indelebile. Si sono svolti questo pomeriggio ad Arena Po i funerali, alla presenza del vescovo di Tortona a Canessa, di Don Fernando Barbarini. Il sacerdote si è spento all'età di 93 anni e per oltre 60 anni, dal 1946 al 2010, ha praticamente trascorso tutta la sua vita a Stradella, città in cui ha lasciato un segno profondo. Nato nel 1921 a Torrazza Coste, Don Fernando è stato ordinato sacerdote nel 1946. Dal 2010 era ricoverato presso la fondazione Cella di Arena Po. Per quasi 60 anni ha ricoperto la carica di rettore della Chiesa della Misericordia, dove si prodigò per la conservazione e l'abbellimento del patrimonio artistico dell'edificio sacro. Tanti fedeli lo ricordano con emozione per la sua profonda opera di quegli anni intensi a servizio della comunità. Gli stessi fedeli che oggi, insieme alle massime autorità, non hanno voluto mancare ad Arena Po per attribuire l'ultimo saluto ad un sacerdote speciale, un uomo capace di farsi volere bene.